Nel video di oggi andremo a leggere lo stato di un pulsante collegato al Raspberry tramite un'interfaccia realizzata con TKInter. Quindi premendo il tasto vedremo una label sulla finestra che creeremo, la finestra grafica, modificarsi. Sarà necessario introdurre il concetto di timer che all'interno di TKInter, quindi usando Python, è molto semplice e immediato, quasi è nascosto. Iniziamo subito. Oggi vedremo come rilevare la pressione di un tasto all'interno di un'app realizzata con Python. Partiamo dall'hardware, quindi questo è il nostro Raspberry. Qui andremo a collegare al pin 20, pin fisico 20, un tasto con la solita modalità. Quindi avremo da una parte il nostro pulsante collegato con una resistenza da 10K verso Ground. Il pin 20 lo colleghiamo qui in mezzo, l'alimentazione è 3,3V che prendiamo dal Raspberry. Dovrebbe essere il pin numero 1. Il ground è in comune, sceglietene una tra le tante disponibili. Qui avremo la nostra app con una label che andrà a dire se il tasto è stato premuto oppure no. Per farlo dovremmo continuamente leggere lo stato. Questo lo possiamo fare utilizzando un meccanismo che ci danno le app di TK Inter, una specie di timer che ogni 100.000 secondi va a leggere lo stato del tasto e lo riporta sull'app senza bloccare l'applicazione. Andiamo a vedere come fare. Partiamo sempre dal file dell'ultima volta che modifichiamo leggermente. Quindi lo ripuliamo in modo da avere semplicemente un'app quasi vuota. Quindi abbiamo la nostra app, MyApp, MasterTitle se volete lo possiamo cambiare, facciamo ReadButton, le misure e la posizione le lasciamo così, ma il loop fa partire l'app. L'app parte grazie al costruttore init. Questo va a dare forma alla finestra, impostiamo i pin, questa volta diamo il pin 20 come ingresso. SetMod lo lasciamo in bcm così che utilizzeremo i numeri fisici dei pin, cioè il 20. Qua adesso andiamo a aggiungere una etichetta, facciamo self.lb e il nome dell'etichetta la mettiamo in una variabile. Andiamo ora ad aggiungere un'etichetta, la creiamo con tk.label, abbiamo già visto come farla. La salviamo in una variabile self.lb. Questa etichetta andremo a mettere dentro un testo iniziale. Allora intanto dobbiamo dire a chi appiccicarla, mettiamo self all'applicazione stessa. E il testo che gli mettiamo è uguale a, scriviamo GPIO input. Poi lo cambieremo. Visualizziamo l'etichetta self.lb.pack, in modo che esca. Ci serve un pulsante button, lasciamo tutto uguale, mettiamo come testo ok. Come comando gli mettiamo una funzione che adesso andremo a definire, la chiamiamo onClick. definiamo la funzione onClick, prende come parametro ovviamente sempre self, qua gli mettiamo print ok, in modo che farlo uscire sulla console, e facciamo cambiare anche la label. Per far cambiare la label dobbiamo fare self.lb.config, mettiamo text uguale 4 trattini. Possiamo modificare il testo della label anche in questo modo. Abbiamo visto un'altra modalità che era self.lb, l'altro modo è questo qua, self.lb, qua gli passiamo tra le quadre, text, e poi impostiamo il valore desiderato, quindi sono previste due modalità differenti, potete scegliere quella che preferite. Lasciamo la prima, questa volta, quindi commento questa, mettendo davanti un cancelletto, vedete che diventa grigetto. Bene, in teoria la onClick non ci serviva, perché noi andremo ad aggiornare la label. Come faccio ad aggiornare la label? Per aggiornarla dobbiamo creare un timer, allora un timer lo posso creare in modo quasi naturale. Definiamo una funzione che si chiama readInput, questa funzione è una funzione nostra, quindi la definiamo noi, potremmo chiamarla come vogliamo. La metto qua, def readInput, come parametro prende sempre self, chiudiamo con due punti. Qui dentro andremo a leggere l'ingresso del pulsante. Quindi per leggere lo stato del pulsante mi creo una variabile che chiamo btin, il valore lo leggo con gpio.input di 20. Mi darà alto-bassa secondo quello che rileva. Poi qua, se questo btin è alto, quindi non devo fare nient'altro che leggere il nome della variabile, perché questa contiene un valore che è o vero o true, viene interpretato come vero o true, quindi non devo fare per forza uguale o uguale true o uguale o uguale false, viene interpretata direttamente. Quindi se è true, quindi ho premuto il tasto, vado a modificare la label. Faccio self.lb. Qua mettiamo confid.text, lo copio da qua. Cntrl-C, metto qui. Qui mettiamo il testo, mettiamo preced. else, due punti, quindi se il tasto invece non è premuto, andiamo a scrivere quattro righette ripulendo praticamente la label. Mettiamo tre puntini. Questo però non funziona, cioè funziona solo se quando lancio l'app tengo premuto il tasto, altrimenti lo perdo. Come faccio per far richiamare costantemente questa funzione che mi va a leggere il tasto? In modo molto semplice possiamo fare self.after, aperta chiusa, quindi questo sistema va a richiamare la funzione readInput che adesso indichiamo dopo 100 millisecondi. Quindi dopo 100 millisecondi vado a richiamare self.readInput. In questo modo creo un timer che continua a girare e rileva lo stato del tasto e lo riporta sulla nostra interfaccia. Vedete qua, premendo il tasto, compare la scritta pressed sull'interfaccia.